Crolli nella notte ad Ariano Irpino, via Parzanese chiusa al traffico. Per fortuna quell'ora non vi erano passanti o auto in transito e nessuno si è fatto male. L'area è stata transennata dalla protezione civile. Ora toccherà ai proprietari provvedere alla messa in sicurezza. Probabilmente nei prossimi giorni si procederà con l'abbattimento. Davvero un peccato perché il crollo ha interessato un antico fabbricato dal grande fascino, in tuffi e pietra arenaria con il soffitto avvolte. E si riapre il dibattito sulla necessità di eliminare i cosiddetti buchi neri, ruderi spesso appartenenti a più proprietari che hanno delocalizzato la ricostruzione, disinteressandosi poi della vecchia casa, lasciando quindi maturare situazioni di pericolo per la pubblica incolumità. La questione dei buchi neri è stata anche motivo di attacco politico da parte della minoranza alla giunta gamba curta, attribuendo gravi responsabilità sul piano urbanistico ad un'amministrazione che non se ne è fatta carico e chiedendo un censimento per avere il quadro della situazione. Questione neanche sfiorata dall'aggiunta Franza anche per la breve durata dell'esperienza, ma certamente l'amministrazione che verrà dovrà affrontare tale problema in primis per la sicurezza dei cittadini e poi perché probabilmente le strutture più caratteristiche non dovrebbero essere abbattute indiscriminatamente, ma recuperate in qualche modo, poiché oramai restano poche tracce del passato e la città rischia di perdere completamente la sua identità storica, soverchiata dal cemento dell'architettura contemporanea.